Hey guys, falla calerola chicos, ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel canale di ZioAlfix in una nuova gara impossibile Antonio Viola Extreme Wall, una cosa del genere si chiama la gara raga Quindi una gara dedicata da Dionys Fenix, un creatore brasiliano, partiamo così in aria comunque A Antonio Viola, un altro creatore, un altro ragazzo italiano Ok ragazzi, perfetto così E come ha fatto quello esplodere, incredibile raga Esplodero anche all'inizio, qui raga entriamo nel tubo nero Fatemi frenare raga, ok, il tubo nero raga, prendiamo il checkpoint E erano consigliate la T20, l'Osiris, quasi tutte le auto raga, ho scelto l'Osiris perché è quella che di solito mi dà più sicurezze in questi warride Attenzione raga, in questi warride, buono però, bello, bello, mi è piaciuto questo atterraggio No raga, qui sono troppo veloce infatti, andiamo nei giardini di Zio Peppe ma comunque non è importante raga Il warride sarà molto difficile, la valutazione della gara è veramente infima, sotto al 10% se non sbaglio, roba del genere Vabbè, qui si schiantiamo No, no, ma non partirei da Osiris, rimaniamo qua a prenderci il caffè da Zialina Ok, ripeto raga, non è importante questa pezza di strada qui È importante il warride, mamma mia quanto lag è Black Tiger bro Ho qui un corbone leggermente a gomito, direi quasi a ginocchio Ok Giriamo qui raga E niente, raga, mi raccomando, lasciate un like già in primis, se volete bene a Zio Alfix E se non volete la denunzia E nulla raga, ci sono ancora altre qui curve Questo è un pezzo di traccia da cosi messo a cazzo, secondo me è proprio Per lo più per allungare il brodo Forse non sarà così difficile il warride, raga, non lo so Veniamo un po' qui No, 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 fai la brava Osiris, fai la brava Devo concentrare un po' di più, ragazzi, questi guidano male e non... ma che cazzo? What the fuck, perché le ruote vanno così? Dai, dai Osiris Dai Osiris, fai la bravina però Come far fare brutte figure con i miei potini? Ok, curva qui Prendiamo la bella stretta Ok, curva ormai Stra, stra fatta dai... usata dai creatori, ovviamente, perché è anche l'unica via di uscita Ok, raga Rallentamento Qui c'è il warride Eh, non l'ho preso Però ci siamo, ci siamo lo stesso Perfetto, raga Ok, raga, warride Non sembra difficile E non è tanto inclinato Quindi buona notizia, raga Buona notizia, buona notizia Ok, ok Ok, raga Il checkpoint Non c'è, raga, il checkpoint Non mi dite che è tutto senza checkpoint Raga, stavo per cadere Ok, raga, preso ancora Ancora niente checkpoint Mamma mia, ragazzi Allora ho capito perché è difficile Non è tanto difficile in sé per sé Ma sono tutti Tutto così, raga Dio santo Non si può sbagliare, raga Non c'è margine d'errore qui Non mi dite che faccio Alla prima, raga Alla prima di Zolfix Alla prima 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 Zolfix Andiamo così Mamma mia Mamma mia, ragazzi Incredibile So fucking incredible Black Tiger ha abbandonato la sessione Se noi perché stava laggando da pazzo E secondo me è crashato proprio Mamma mia, ragazzi L'ho fatto alla prima Non ci credo Non ci credo Sento gente nella chat, raga Che sta bestemmiando, ragazzi Stanno veramente bestemmiando Perché non si aspettavano un ride del genere L'ho fatto alla prima Incredibile A volte mi meraviglio di me stesso, raga Forse a volte mi sottovaluto Ma comunque Buono così Buono Zolfix E abbiamo qualcuno dietro? C'è qualcuno che ci è riuscito, raga Sì, curbside Ci è riuscito 13 secondi dietro, raga No, 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 no Dobbiamo andare bene anche qui, raga Dobbiamo anche andare bene qui Veloci, veloci Senza fare errori assolutamente Anche se Dovrei Dovrei, ragazzi Mutare qualcuno In chat Perché Stanno urlando Nelle orecchie proprio Non sento neanche più la macchina Sento solo loro che urlo E quindi Questo è Vabbè Ora sto guidando un po' più decentemente Anche perché sto più tranquillo 400 like Ci dice Xclawlin Ragazzi Stiamolo a sentire Ascoltiamolo Quindi 400 like Per questo video Mi raccomando Ok Anche per questa qui, ragazzi Sto guidando abbastanza bene Alla massima Alla massima Ok Perfetto Dai, dai, dai Ok Qui freniamo, raga E ci siamo Vediamo quanti secondi abbiamo ora Sempre 13,7 Curbside Non molla, raga Anche lui Un buon pilota Qui dovrebbe esserci il rallentamento, raga Qui dovrebbe esserci Mi devo levare le cuffie, raga Perché non riesco a sentire Tutto questo casino Che ci sta dietro Nelle cuffie E partiamo Partiamo Partiamo, partiamo Partiamo Speriamo di non sbagliare subito Infatti sbaglio subito Dio santo Allora Raga Qui C'è bisogno di fare subito tutto Allora Questa prima guardia Sembra molto Molto semplice Ovviamente Raga Vi lascio il link In descrizione La gara è di Diones Fenix Bua Bua corrida Bro Questo è Molto 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 Ho detto ragazzi Bella gara Bro Mi è piaciuta Tanto L'ho detto in portoghese Perché È brasiliana Parla il portoghese Mamma mia ragazzi Che il recupero Mamma mia ragazzi Che il recupero Mamma donna Che il recupero Ragazzi Ho fatto lì Ragazzi ho fatto Il recupero assurdo Lì L'auto stava per cadere E sono riuscito a mantenere Ci giochiamo tutto qui Ragazzi Ci giochiamo tutto Fortunatamente qui L'ultimo World Ride Andiamo così Andiamo 400 like Come ci ha detto Xclawing In un messaggio privato Ci vediamo Ovviamente ragazzi Al prossimo video Non ho fatto tutto La prima Ma l'importante È chiudere in prima posizione In queste gare Abbastanza impossibile Ragazzi E niente Sono stanchissimo Ci vediamo al prossimo video Immaginando Vossi affix Ciao ragazzi